Noi precari, lavoratori invisibili, esistiamo e chiediamo a gran voce di essere protagonisti. E questo è il messaggio del video realizzato dal personale Precari Oss, promosso dalla CGL Funzione Pubblica. Sono le voci dei precari, ora stremati dal virus, i quali rischiano la propria vita ogni giorno per garantire la qualità dell'assistenza in situazioni lavorative di estremo disagio e che chiedono di vedersi assicurare la proroga dei contratti di lavoro a tutti i precari storici. I lavoratori invisibili, così si definiscono, comunicano attraverso le immagini, anche da casa contagiati, noi esistiamo, abbiamo contagiato noi e la nostra famiglia. Siamo stati dei lavoratori responsabili e continuiamo ogni giorno ad esserlo sui posti di lavoro, anche da precari. Questa è una storia triste che merita di avere un lieto fine. I lavoratori chiedono a gran voce di averle proroghe, lo chiedono al Presidente Emiliano, al Direttore Generale che ha manifestato sensibilità. Abbiamo necessità di raccontarvi e di illustrarvi la situazione di un precariato storico, di un aggravatore a tempo determinato del 2009, in cui alcuni lavoratori hanno già raggiunto il requisito su stessa aggravatore di 36 mesi e sono stati prorogati. e meritano anche loro, avendo vissuto un momento così delicato ed essendo ancora in una condizione di incertezza lavorativa, meritano anche loro stabilità.